Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa! Eccomi qui con il candidato Antonio Vota! Per gli amici, vota Antonio! Sono venuto qui soltanto per incontrare il Salutatore! Mi fa grandissimo onore, vogliamo fare un saluto speciale? Volevo salutare tutti quelli che ho in borsato! Ciao, ciao, compagno! E vai, salutiamo tutti gli amici anni 70-80! Tutta la Sicilia, il mio grande paese che mi sostiene, Pamela e tutti noi! Grandissimo! Allora noi salutiamo tutti quanti dal Salutatore e abbiamo la manina tricolore al candidato Vota Antonio! Antonio, vota! Grazie, prese, mi è sempre un piacere! Ciao! Per gli amici, vota Antonio! Vota Antonio! Ciao!